salve a tutti e benvenuti ben ritrovati nel mio canale sono lucia e oggi ci doveva essere un progetto smaltimento make up si ma come avete letto nel titolo e ho appeso al chiodo il mio beauty del make up si perché sto andando al mare non mi voglio abbronzare però c'è perché sono un contrario all'abbronzatura però non mi trucco più non mi trucco più almeno fino a fine agosto perché parte fa caldo fauna fa sono spesso al mare e non riesco a mettermi niente poi rovino rovinerei la mia pelle perché una pelle particolarmente sensibile così questo qui è un arrivederci magari a settembre perché con l'aria fresca sicuramente smaltirò alcuni prodotti quindi vi auguro una bellissima estate io sono così l'estate sono naturale sono senza trucco e voi come siete vi truccate anche d'estate alcuni si truccano anche a spiaggia comunque buona estate ciao ciao al prossimo video ciao 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 ciao